Banche, imprese di ili, cittadini, il super bonus 110% viene presentato oltre due anni fa come una misura capace, su carta, di rimettere in moto la macchina economica ed occupazionale andando a spalmare benefici e vantaggi a pioggia su diverse categorie. Dopo oltre due anni il super bonus è diventata una misura tanto straordinaria quanto discussa, subendo decine e decine di modifiche per adeguarsi a quelle in pass concrete che nella teoria non erano state neanche prese in considerazione. Ed oggi, tralasciando le difficoltà operative del bonus in sé, a tenere Banco in Parlamento è stato il meccanismo della cessione dei crediti. Tutte le incertezze sono state sbloccate nel DLA-UTBIS che di fatto rimette in moto la macchina delle cessioni per 5 miliardi e 2 fermi nei cassetti fiscali di imprese e professionisti. Con quali conseguenze? Le banche ancora hanno i rubretti chiusi, le banche ancora devono prendersi i crediti dei lavori già eseguiti fino ad oggi, figuriamoci quelli fotori. Poi si sta creando un altro problema che è quello dello sconto del tasso che non è più il 10% come il governo aveva preventivato. Casa della Represe deve intervenire, Posta deve intervenire in questa situazione che altrimenti noi imprese ci troveremo a pagare un tasso di sconto che va da 25 al 30% e quindi è come se io di 100 di lavoro effettivamente me ne vengono pagate 85. Non si riesce a trovare la quadratura, la formula perfetta per una misura che su carta sembra eccezionale, sembra non scontentare nessuno, ma in pratica invece sta scontentando un po' tutti. Sì, sta scontentando tutti. Io ricevo come impresa almeno 10-15 chiamate al giorno per quello che riguarda sto 110. Io queste cose ebbi a dirle circa due anni fa, tre anni fa all'Aula Magna dell'Università di Cassino. Io a sottosegretario dell'economia gli dissi guarda che qui non si farà quasi niente o poco e andai ad elencare tutti i punti che erano tortuosi e così è successo. Secondo me il governo deve interpellarci di più, cioè l'associazione di categoria deve sedersi intorno al tavolo dove cercare di condividere e suggerire cosa che facciamo sempre, quale sono le vie maestre, perché così non si vadano sulla parte.